Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della nostra Master League con la Roma Veniamo da un ultimo appuntamento in cui a causa del calcio scommesso abbiamo pareggiato 3 a 3 con l'Iz Infatti la procura sta iniziando a indagare per delle possibili scommesse sulla partita Aspettiamo aggiornamenti nei prossimi episodi Detto questo signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suoi studenti e per il supporto Vi ringrazio per esservi iscritti al canale, abbiamo raggiunto la soglia di 2000 iscritti Grazie a tutti e spero di continuare sempre di più, sempre grazie al vostro supporto Altro ringraziamento particolare signori è per i commenti che mi lasciate, che mi fate tanto ridere signori Infatti io non vedo l'ora di che escano i video della Master League per leggere i vostri commenti Che mi fanno veramente molto molto ridere, mi fanno molto piacere Spero che continuate così signori Detto questo, adesso dopo vari ringraziamenti partiamo con il video ufficiale Signori io chiuso nella mia cameretta, triste triste, ho deciso che giocatore comprare Abbiamo 28 punti e ce li spenderemo Allora, Davids costa tanto ancora e sinceramente voglio aspettare un pochino a comprarlo Davids I tre pretendenti sui quali mi ero concentrato erano Argy, che sinceramente non è per niente male, ha una velocità di 18 e un'accelerazione di 17 e non è per niente male Opzione 2 era per Agaowa, che anche lui non scherza, velocità 17 e accelerazione 17 e quindi anche lui sembra un buon giocatore Oppure il camerunense Semai, che ha velocità 19 e accelerazione 17 Allora, sinceramente signori, a me sulla fascia mi serve uno che corre Uno che corre, voglio dare fiducia a Semau Semau come... Semau? Semau? No, non sono Mau, però va bene lo stesso Signori, compriamo Semau, deciso, senza paura e senza dubbi Per chi lo andiamo a prendere Semau? Semau lo andremo a prendere per un esterno Signori, dobbiamo liberarci di un esterno Quindi salteranno o Espimas o Expima Mi sono impappinato E non scioglilingua Espimas Ximenes E non scioglilingua Chi dei due perderà il posto, signori, dovrà farsi la valigia e tornarsi nella propria patria Signori, il prescelto è Ximenes, signori Perché effettivamente le statistiche fanno un po' cagare Espimas è un pochino meglio, anche se diciamo che non tanto di più Simenes, è stato un piacere averti in squadra con noi Non hai mai visto... hai visto raramente il campo se non all'inizio della stagione Ora ti potrai concentrare sui campi della tua casa Ci rimangono 10 punti Che io per ora mi terrei belli saldi saldi Aspettate però, diamogli un numero di maglia sensato a Semai Semai si è preso il 7, così, di sua decisione Il nuovo Cristiano Ronaldo, signori Il Cristiano Ronaldo camerunense Cristiano Ronaldo dei poveri E noi ce l'abbiamo Procediamo all'incontro, veloce, rapido e in dolore Senza, senza, senza paura e senza, senza vergogna, signori Andiamo, andiamo Allora, giochiamo in casa o in trasferta? Andiamo a vedere prima una cosa Giochiamo in trasferta, ok Quindi, in teoria, se io faccio gestione dei dati formazione Carica La Roma Memory Card 1 Tu mi dovresti poter caricare questa formazione Che rende riuscire per usare i dati formazioni caricati E andare nel menu impostazioni Formazione e fare una copia della formazione Che cazzo è arabo? Allora, copia formazione Sì Sei sicuro di voler copiare questi dati? Sì No Ragazzo non è la mia formazione? No E quindi Non capisco Predefinito Perché predefinito c'è questa formazione di letame? Va bene Non facciamoci domande, signori E va bene Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Ma non ci riusciamo Purtroppo non so che dirvi, signori Sono zero Sono a zero Sono a zero Non riesco a fare quello che mi dite di fare Velo che è italiano E io non ci riesco Va bene Dettagli, dettagli Ci piace farla manualmente a noi la formazione, signori A noi ci piace farla manualmente Perché dobbiamo utilizzare queste tecnologie Di salvataggio dati Di quando possiamo tranquillamente Andare a perdere mezz'ora della nostra vita Per andare a risistemare tutta quanta la squadra Dove sta se no il divertimento? Scusatemi Scusatemi No Non abbiamo Stokavic Porca miseria Stokavic non ce l'abbiamo Va bene Allora Miranda Semau Ha sbagliato posizione in campo Semau E Babangida Henri Metta Esce quindi per Allora mettiamo Totti Miranda lo mettiamo qui Totti lì Cellini Vorlanden Giorni Torna finalmente in difesa Aspetto un attimo Valeri al suo posto E sulla destra gioca Cafu Ok Finalmente piano piano la nostra squadra inizia a prendere forma Signori Abbiamo Ivano Valeri Turamo in difesa Giorni e Cafu sugli esterni Porlando in Totti Sulla mediana Miranda trequartista Henri Babangida E Semau Semau Vediamo se è il nostro Semau Contro il Valenza Signori Contro il Valenza La terza spagnola del campionato La andiamo a incontrare Vediamo se saremo fortunati come le prime due E le asfalteremo male Signori Ci proviamo Ci proviamo Semau Mi raccomando Semau Fammi vedere che sei Degno di questa maglia Semau Mio Semau Semau Attenzione Semau Attenzione Con calma A chi cazzo non l'hai passato Turam Cazzo sei alto due metri una quaresima Dico Non ci vuole niente a vedere Un attimino Dove sono i tuoi compagni Sai siamo quelli con la maglia rossa Non è difficile Giornì Giornì Ancora Claudio Lopez Ci prova Manneggia lui Ivanov Con calma Ivanov 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 La devi passare Non devi fare questi cazzoli Perché Perché prendi Ti prendi iniziative che non ti toccano Ivanov mio Perché prendi le iniziative che non ti spettano Dovevi passarla semplicemente a terra Grandissimo Ivanov Va bene così Va bene così Dai Ivanov La passi a terra Grazie Grazie mille Ivanov Ivanov per Valeri Valeri per Giornì Giornì per il Bamba Bamba che perde il pallone Ma c'è Giornì Pronto a recuperarlo Giornì Giornì Gira su se stessa E poi rivede nuovamente il Bamba Il Bamba Il Bamba Il Bamba Che però è perso Ma vede Giornì nel movimento Mannaggia Valeri 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 Vede Giornì Giornì che vede Babangita Che adesso ha praterie Perché l'esterno era partito Nel tentativo Di accentrarsi Babangita Ma che cazzarola era Babangita Bamba Ma che cos'era Li si è dislocata la caviglia Forse Per cercare di fare Sto tiro Ha perso il controllo Della caviglia Attenzione Attenzione In due Chiuderlo grande Grandissimo Valeri Che poi vede ancora Sulla fascia Babangita Che non decide di non partire Babangita Per Vorlanden Vorlanden Per Harry 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 Mannaggia Mannaggia Harry Si Claudio Lopez No è Angelo 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 Dai cazzarola Ma perché riescono a fare Quello che vogliono Questi Attenzione Al calzacco di testa Totti addirittura Ripiegamento difensivo Ancora Miranda Miranda Sulla tre quarti Cerca Babangita Lo trova Il parte il Bamba Madonna mia Avevi le praterie Babangita Avevi le praterie Mannaggia a te No Guarda questi Che coglioni o due Allora Scusatemi Che cazzarola Il Barcellona E il Valenza Signor Io capisco che il Valenza Sia pieno di campioni No 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 Ivanov Mamma mia Gli stavamo regalando Gli stavamo regalando Una grande azione Ivanov con calma Ancora Per Valeri Valeri Che cerca Jorni Jorni Che cerca Babangita Babangita Mamma mia Come viene chiuso Babangita Babangita Che però cerca Jorni Subito Bella Quell'asse di sinistra L'asse di sinistra È bello Signori L'asse di sinistra È bello Jorni Porca miseria No Ma Guarda Vorlanden Solo perché sei tu Perché già avresti perso Il posto in squadra No Ivanov Palla sul palo Mamma mia Mamma mia Signori Jorni Attenzione alle praterie Per il Bamba È partito il Bamba Signori È partito il Bamba È partito il Bamba È partito il Bamba Che cerca Riii Gol sbagliato Gol subito Signori La dura legge del calcio Funziona sempre Gol sbagliato Gol subito Babangita Entrato in aria Guarda Vede Rii Che è di prima Buca Il portiere del Valencia Roma 1 Valencia 0 In tutto questo Vorrei segnalare Segnare come Semau Non ha preso Minimamente un pallone Fino a questo momento Non ha capito ancora Che sta giocando Che è in campo Semau Semau dice Cosa devo fare Io 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 abituato a vendere Accendini Cosa faccio qui Ma questa Questa era brutta Va bene Attenzione Giorni Giorni Gli manca quella fascia Giorni 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 Ritorna sui passi Giorni Madonna mia Rii sul rimpallo Del portiere Stava per fare il 2 a 0 Se la stavano per chiudere Oddio Non lo posso più dire Che la stavano per chiudere Perché No Ma stai scherzando Ma non era fallo Mai nella vita Ma dai Ma smettila Ma smettila Gli ha solamente tranciato una caviglia Ma non era fallo Stavo dicendo che non posso più dire che Abbiamo chiuso una partita Signori Perché contro l'Izze Vincevamo 3 a 1 E ci siamo fatti recuperare Attenzione 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 Semau 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 Cade Semau è caduto Cosa ha fatto Semau Fino a questo momento della partita È caduto Attenzione ancora Semau circola Semau 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 è partito Semau è partito Attenzione è veloce Semau è veloce Con la sua velocità Semau però I giocatori Li devi saltare Non li devi andare addosso Semau mio Perché se li vai addosso Non funziona Devi driblarli Sai il dribbling Attenzione ancora Semau c'ha un'altra possibilità Niente Potevi andare più avanti Annaggia Semau 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 Mamma mia Mamma mia Che abbiamo comprato Ma chi cazzo L'abbiamo comprato Ma non potevo comprare Roberto Carlos Dico io No Ho comprato Semau Va bene Dettagli Dettagli Di sicuro avremo uno Che vende Bastoni per selfie Non mancheranno più alla Roma I bastoni per selfie Questo non è Non è Questo è sicuro Questo è sicuro Signori Però Noi ci servirebbe uno Che corre sulla fascia E la crossa Non uno che vende Bastoni per selfie Però 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 Lo istruiremo Signori Lo istruiremo In tutto questo Ah mamma mia Chi è? Totti? Mamma mia Forse era Totti Signori Ce l'ha graziato Attenzione Mendieta Ivanov Porca miseria Cosa ha preso Ivanov Signori Porca miseria Cosa ha preso Ivanov Attenzione Minuto di recupero Mendieta 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 Cross Claudio Lopez Alla prestaturo Lopez Non lo so Finita? No Vuole continuare a farci soffrire Cafu 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 Cerca Semau 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 E abbiamo Semau Su questo lato Attenzione Il nostro Cristiano Ronaldo Signori Vediamo un attimino Attenzione Il nostro Cristiano Ronaldo Attenzione Bello La frenata di botto Di Semau Che decide di rientrare Semau Che cosa cazzo Semau non ha capito il gioco Semau ancora non ha capito Che Deve La palla Deve andare nella porta Nella rete avversaria Perché dobbiamo fare gol Semau Ha visto C'ho la palla La tiro No Non funziona Attenzione Semau Semau Però ci crede Ci riprova Semau Questa volta Questa volta ha preso meglio la mira Signori Questa volta ha preso meglio la mira Semau Semau ha preso meglio la mira Attenzione Miranda E noi ci riproviamo ancora Signori Semau Semau Ci stiamo concentrando su di lui Signori Stiamo facendo capire come funziona il calcio Semau Niente Turam Sta calmo 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 La mette giù La mette giù Turam 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 per Totti Totti per Cafu Cafu per Semau Io signori Voi non ci crederete Ma quanto mi sta mancando Stoikavic È vero È vero Stoikavic Se guadagnate il posto da titolare Ebbene sì Ebbene sì Mi da Mi da Babà Babà Mamma mia Mannaggia 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 Leva 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 Vedete Io ci vado con la X Signori Io ci vado con la X Ma non mi dà quella soddisfazione Di staccargli le gambe Praticamente Io ci vado con la X Cos'è questa spallata così Leggera Invece Gli fa un bel intervento Gli fa saltare la rotula Loro capiscono che Non devono continuare a fare questo gioco Riusciamo Grande Palla per Babangita No Mannaggia Come l'hai stoppata male Attenzione Miranda Miranda Vede Semau 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 è partito Semau è partito Attenzione ancora Semau 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 Non lo fermi Prova il cross Mannaggia Che ho provato Che ho provato a crossarla Semau Noi avevamo le praterie Con Babangita Comunque Giorni Giorni Ancora il Bamba Ancora il Bamba Che vede via centrali per Miranda Miranda Indietro un bruttissimo pallone Signori vedete che stiamo a vincere solo 1-0 Noi stiamo a vincere 4-0 Che possiamo giocarellare Vorlander Vorlander per Babangita Che ha di nuovo le praterie È partita Babangita 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 Per Semau 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 Che perde il pallone Semau Fisicamente non c'è Fisicamente Semau Non c'è Grande Qui l'intervento Bravissimo Bravissimo Cafu Se non sbaglio A prendersi Una punizione Importantissima Pallone Niente Semau Non li va nemmeno di correre È stanco È stanco Non Attenzione Turam Che cosa cazzo lo ci fa lì Turam Non lo sappiamo Ma ci piace Turam Che prova il cross Per Babangita Attenzione Questa è una partita Da scrivere nel calendario Babangita Ha preso un pallone di testa Cioè io non vorrei dire Ma attenzione Grande recupero Semau 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 Fa 8000 dribbling Semau 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 E poi si perde Niente Semau Ha provato a confondere Il giocatore del Valencia Con dei dribbling Inutili E assurdi Però ancora Attenzione Semau 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 Questa volta se ne va Bravo Semau Bravo Semau Dai Semau Che io credo in te Dai Semau Fai vedere i soldi Che abbiamo speso per te Che non mi insulteranno male Grandissimo Turam Perché hai comprato Semau Potrei comprare Pinco Pallo Signori Io devo comprare Roberto Carlos Porca miseria Allora Signori Noi abbiamo Questa stagione In cui non penso Riusciremo a vincere lo scudetto E la prossima Nella prossima Signori Io e lo sfizio di Roberto Carlos Me lo tolgo Attenzione però Perché è partito il Bamba È partito il Bamba È partito il Bamba Signore Non lo fermi Non lo fermi il Bamba Che rientra Il Bamba Che cerca Attenzione Vorlanden La mette giù Vorlanden Che trova Miranda 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 Era un 1-2 Signori Era un 1-2 Se l'1-2 funzionava Era montato soli davanti la porta Cafu Cerca Semau 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 Attenzione Se diventa dritto per dritto Ha dei problemi di convergenza Semau Semau Dai che ragazza Ma porca Ma porca Siamo al 41esimo Vinciamo 1-0 contro il Valenza Signori Allora io voglio tutto ma non la beffa Se questi mi pareggiano Totti Grande recupero di palla di Totti Attenzione Totti 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 Cazzarola è passata Totti mio Avevamo recuperato il pallone Avevamo recuperato il pallone Avevamo recuperato il pallone Grandissimo Turam Mamma mia che acquisto abbiamo fatto Signori con Turam Turam Cafu Cafu per Semau Semau che parte Attenzione Semau 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 Abbiamo fatto anche La colonna sonora al tiro Che si è spento e finisce così Mamma mia che cazzarola di partita signori Mamma mia abbiamo vinto 1-0 Un gol striminzito Non mi ricordo nemmeno che cazzarola ha fatto Però vabbè l'importante era vincere In tutto questo 9 tiri a 4 In tutto questo il Real Madrid ha battuto 3-1 e il Chelsea La Lazio ha perso contro l'Inter signori Quindi in teoria riconquistiamo la testa della classifica Il Bayern di Monaco perde contro il Buenos Aires Va bene Era dietro di noi il Buenos Aires Non ci interessa Per di tanto Il Dortmund perde 5-0 contro la Juventus E il Barcellona perde contro il Marsiglia Eh Questa fa Pascal Poir Il Leeds pareggia contro il Milan E il Manchester Vince 5-1 contro il Leverkusen Gran vittoria del Manchester Chi cazzo l'ha segnato? Ah Arria l'ha segnato Signore Assisti di Babagina Già me l'ero dimenticato Me l'ero dimenticato La testa è quella che è Va bene Va bene Va bene Va bene Torniamo sul menu principale Torniamo sul menu Sul menu principale Vediamo un attimino Prendiamo 9 punticini Che ci portano a 19 Ok E siamo primi in classifica Con 2 punti di vantaggio sulla Lazio Tanta roba signori Tanta roba Va bene Allora signori Detto questo In tutto questo Il Lizza è penultimo Cioè abbiamo pareggiato 3 a 3 contro la penultima in classifica Mamma mia che brutta figura abbiamo fatto Detto questo signori Io voglio semplicemente vedere una cosa Quante cazzola di partite ci restano ancora? Ah l'ultima contro il Manchester United L'ultima contro il Manchester United E finirà il girone d'andata E poi avremo tutto il girone di ritorno Detto questo signori Io vi ringrazio Per aver dato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Per il supporto Noi ci vediamo domani Sempre qui Con un nuovo appuntamento Bella raga Ciao